il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole ma se fanno scritto vuoi cambiare senza più timore non voglio urlare questo grande amore la conoscete no? si grazie 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tutti ballano di su, tutti ballano di su Ok, bravo All'impasso Pietro Luigi Signori e signori All'equipare Thomas Romano All'impasso 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 Ciao Grazie a tutti. Un grande applauso al nostro maestro, a troppo dettare. Grazie, buonissime. Ovviamente, un saluto speciale a questa meravigliosa orchestra, orchestra di Armonia America. Ma sopra di tutto, sopra di tutto, sopra di casa, chiesa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.